Ragazzi arriviamo in realtà all'argomento che doveva essere un pochino il main del video, del video della diretta, di un argomento molto molto caldo, soprattutto quando è stato annunciato per la prima volta questo cambiamento. Parliamo dei falli e delle dichiarazioni che ci sono state di alcuni giocatori, di alcuni coach, di alcuni commenti e portiamo qualche esempio. I giocatori ovviamente indiziati sono James Harden che come possiamo vedere in questa azione batte Bam Adebayo dopo una finta di tiro e va a cercare il contatto col braccio sinistro che mentre approfitta del fatto che Bam stesse cercando pallone e si stesse mettendo in equilibrio col braccio destro, ci passa sotto, tira su, cerca contatto, non gli viene fischiato per la nuova regola. Adesso io qui dal tifoso barba sono contento che non sia stato chiamato perché secondo me questo è no call. Io mi ero espresso già a favore delle regole nuove perché il basket sarebbe diventato più pulito, più bello da vedere, c'è bisogno di dare del tempo soprattutto ai giocatori come Harden di adattarsi e di diventare più efficienti sotto questo punto di vista. Ed è giusto anche che all'inizio non si trovino, cazzo hanno giocato in una lega dove queste cose gli venivano fischiate tutte, 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 tutte e adesso che non gli vengono più fischiate. Quindi il mio commento su questo è che è no call perché è un cercato contatto di Harden assolutamente, in più si è sbilanciato a sinistra andando verso il Bam a cercare il Bump col corpo. Su questo ti do ragione, l'esempio che hai portato è perfetto, ha fatto tutto da solo, che vuole pure il fallo. Ma lui è abituato a una... No, no, sì, è abituato a farlo, ma non è che... Arbiturale che lo fischia, quindi lui voleva farlo proprio perché è abituato a riceverlo in situazioni come queste. No, sì, io, anche per me questo è giustamente no call, io sono a favore dei nuovi fischi, tra l'altro se non avete ancora detto la vostra ci sarebbe anche questo post che abbiamo fatto per dire la vostra e recuperare lì anche i commenti vostri, ma giustamente siamo qua in live, ne parliamo in live, tra l'altro Giulio ha anche commentato a favore delle nuove regole e ci sono poi varie dichiarazioni dei giocatori, ecco, se poi quando Filo finisce il suo discorso andiamo anche su quelle per vedere come hanno reagito perché ci sono ovviamente quelli a favore e quelli contro. È giusto, come dici te, che anche i giocatori che si sono abituati da tanto tempo si devono abituare. No, io chiudo il discorso perché così copro un pochino Arden, vado subito in difesa del mio pupillo e dico che proprio perché lui era considerato l'apice del Drawing Falls, anche perché sono anni che lui detiene il trono per tiri liberi tentati a partita, tanti infatti rivendicano che le sue medie così alte fossero dovute ai tiri liberi. Io penso che andare a cercare fallo e farsi fare fallo sia una qualità, poi il modo ci possiamo discutere. Con le regole che ci sono adesso, il modo dovrebbe venire aggiustato perché non viene più premiato il modo scorretto non da giocatore di basket, ma andare a cercare falli, Drawing Falls come lo fa Arden, secondo me rimane ancora il migliore ed è qualcosa che lui non deve perdere, anzi deve semplicemente modellare in base al metro che c'è adesso. Ti dico una cosa su questo anche, tra l'altro, io non l'ho ancora visto in realtà Triang in azione su questi tipi di azioni, però a quanto sembra Triang si è già un po' più adattato andando a cercare questo tipo di fallo con la mano della palla. Questo porta ad avere anche il fallo, ecco, il fallo a favore tuo. È veloce, è veloce, praticamente è quello che dice poi la dichiarazione di Dramon Green. Purtroppo in America non si faceva il discorso di chi causava il contatto, ma si prediligeva avvantaggiare l'attacco. All'americano medio piace più un canestro fatto che una buona difesa. Vero, 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 assolutamente. Dopo ne parliamo perché tanto Dramon Green lo tira fuori, anche Kern tira fuori il discorso. Invece, finendo questo qui, gli arbitri, a parte che è la prima stagione per tutti, ed è l'inizio della prima stagione per tutti, per gli arbitri, per i coach, per i giocatori. Quindi non possiamo pretendere che le chiamate con questo nuovo metro arbitrali siano tutte corrette. Guardate che le chiamate, e anzi soprattutto le non chiamate che ci sono state finora, non sono tutte corrette. Non sono tutte corrette. Alcuni erano a falli, altri non erano a falli. Non possiamo chiedere la perfezione a inizio stagione di una nuova regola introdotta. E i giocatori appunto devono adattarsi, i coach devono girarsi intorno, si dovranno allenare su altre cose. Ci sono un sacco di cambiamenti che succedono. Questa è sicuramente una svolta per il modo in cui si gioca, e soprattutto in un'era dove ogni contatto era fallo. Te lo dico da arbitro europeo, lo stesso discorso vale per le violazioni dei passi, che ne in via sono molto più lassievi, perlomeno fino a qualche anno fa, so che la situazione è migliorata. I passi io sono in realtà molto più sciolto. Cioè, se un'azione è bella da vedere, ed è fluida soprattutto, e non risulta meccanica sbagliata, i passi, soprattutto se non dà un vantaggio. Cioè, il momento in cui tu fai uno step back a quattro come quelli famosi che fa Arden, e non sono tutti i passi, anzi. Arden lo fa perfetto lo zero, ma alcuni sono passi. Quello è un vantaggio, andrebbe fischiato passi, ma altrimenti se è per l'azione bella, eccetera, lo lasci. Cioè, no, è, anzi, sarebbe proprio, rovinerebbe il momento fischiarlo. E no, concludo sui falli, faccio, anzi, spesso una lancia a favore di Arden, e dico che Arden è uno dei giocatori che più è capace di adattarsi in qualunque situazione. E questo è innegabile, perché l'abbiamo visto fare il sesto uomo a Oklahoma, è andato a Houston con la richiesta di diventare uomo franchigia, e uomo franchigia è diventato. È andato a Brooklyn con la richiesta di cambiare ruolo e diventare un playmaker, oh mio Dio. E adesso gli sta venendo chiesto di cambiare modo di camminare, praticamente, completamente, e smettere di andare a cercare i falli a quel modo e farli in un altro modo. Ha fatto fatica le prime partite? Sì, assolutamente. Si è lamentato? Sì, assolutamente. Veniva preso di mira? Sì, assolutamente. Era il giocatore che più era l'esponente di questo drawing falls nella maniera sbagliata, che gli arbitri vedevano, è Arden, se lo sta andando a cercare come fa sempre, non glielo fischio. Non sono d'accordo su questo, con me è stato davvero preso di mira. Finisco e dico che Arden l'ultima partita ha fatto 19 tiri di... Quanti libri ha tirato? 19? Di tantissimi. Tantissimi. Arden mette le palle in testa a tutti, ragazzi. In testa a tutti. Non siete pronti? La gente dice, no, no, Arden adesso non riesce più a giocare, avrà un average di 7 punti a partita. Sì, 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 sì. Va bene, va bene. Arden non gliene frega un cazzo, ne ha fatti 19 tiri di libera la partita scorsa con le nuove regole. Si adatterà, diventerà un mostro anche così. Ti do la palla a Tenic se vuoi dire qualcosa su questo. No, no, l'esempio che ha detto sulla nuova stagione, che ci puoi fare, è una nuova stagione per tutti, non puoi chiederla a perfezione, né adesso, non potrai neanche chiederla tra i dieci anni, perché è una chiamata così situazionale che o la vedi perfetta o la vedi perfetta. Sì, sì, sì. E adesso dobbiamo soltanto vedere come intenderanno gestire arbitri e allenatori questa situazione. Basta, nulla da aggiungere. Tra l'altro andrei a leggere anche qualche dichiarazione. Oddio, è il punto che non l'ho più trovato. C'era un'azione dove su Harden era fallo. I commentatori dicevano, I don't know how this is not a fall. Dicevano, noi non so come questo non sia fallo. Tra l'altro... Non dico io perché non è fallo, perché James Harden la gente non vuole più dargli e regalargli. La più importante di Preseason, tra l'altro, è stata quella su Conric che ha cercato il fallo e poi il commentatore ha detto, non quest'anno Stef, non quest'anno. Cresce, hai ragionissimo. È come quello che a scuola il primo giorno chiacchiera e quindi viene preso di media. Da quel momento sarà sempre quello che parla. Sempre. Io ce lo so. Ci sta. Alla fine è un po' il prezzo da pagare che Harden deve scontare per tutti quei falli che si è preso meritati un pochino. Ma infatti qua James Harden dice, potrei essere in difficoltà ma non sono il tipo che si lamenta delle regole. Mi sembra di giocare partite che sono predeterminate o in cui io debba necessariamente avere lo stigma del giocatore a cui vengono sempre fischiati falli a favore. Chiedo semplicemente agli arbitri fischiare quanto vedono. Quanto vedono, sì. E questo è giustamente quello che devono fare e, come dicevamo prima, l'adattamento degli arbitri. Cioè, ha dato tempo agli arbitri, ecco, anche per il loro cambiamento. Leggi il commento di Crash. Non so se lo sai, ma gli arbitri fanno scuola attraverso i video e l'80% dei video sono Harden. Allora, la nomea di Harden se l'è presa lui, sì. Però lui se l'è presa perché ha approfittato di una debolezza del metro arbitrale che c'era. Lui ha detto, cazzo funziona, riesco a prendermi falli in continuazione, vado in lunetta 20 volte a partita. Funziona, faccio un botto di punti. Quindi, cioè, lui è andato a fare qualcosa che portava punti e favore alla sua squadra a discapito di una nome appunto negativa. E ora sta scontando un po' la pena. No, questo glielo dico anch'io da fan di Harden. Però, Harden secondo me è... Cioè, lui è serio. Lui non si lamenta delle regole. Al momento in partita si lamenta con gli arbitri e glielo dice. Però poi le cose sono così. Dategli tempo. Tra l'altro qua c'è una dichiarazione sostanzialmente delle prime partite d'inizio anno perché ovviamente si fa sentire ancora l'infortunio. Poi si è visto che ha difficoltà anche di canestri che l'anno scorso gli erano abbastanza facili. Comunque nella sua carriera gli sono venuti abbastanza facili. Qua dice anche lui che sta cercando di capire se le sue condizioni fisiche sono buone. Quindi ha bisogno di tempo sia per la fiducia che per prendere fiducia che per prendere condizione. Passando a un altro che sta un po' più con James Harden perché anche lui si è visto molto... Ce l'aspettavamo. Ce l'aspettavamo. Che Young fosse dal lato di Harden assolutamente. Sicuramente. Secondo me sono un po' più infime ancora le cercate di Young rispetto a Harden. perché Harden se non gliela fischiano lo sa che è andato a cercarsela. Young piange di più secondo me. Perché è un giocatore nato così proprio. Esatto. È uno che fa anche molto più enfasi nel fare il movimento. Young non ha visto la Lega senza questo. Harden era un croma, cioè era molto più fisico. Ma anche i primi anni di Houston. Nel primi anni di Houston Harden era una bestia comunque. Un mostro. Quindi Young secondo me è quello che la sta soffrendo di più di tutti. Ah sì ma anche perché ci ha basato molto di più il suo gioco. Cioè se Harden prende e non si chiama e falle in quel modo. C'ha il suo step back, c'ha lo step back laterale. C'ha l'alzata per il centro. Va a finire con il schiacciato. Quindi c'è 20 punti appunto te li fa. Se è a 3 Young tu togli questo. Ti fa 3-4 assist spettacolari. Ti fa la tripla da metacampo. La seconda tripla da metacampo. Raga faccio un piccolo sponsor a step back. Perché oggi mi sono visto il suo video. Ho fatto uscire un video dove c'è l'aggiornamento dei suoi 25 giocatori più forti della storia. Al 25 in questo posto c'è James Harden. L'S2. Resh, sai che mi sa che il motivo l'hanno notato dai mondiali 2019 se non sbaglio. Quando hanno iniziato a soffrire perché hanno capito. I nostri giocatori soffrono a livello internazionale. Non soltanto perché c'è un attaccamento diverso alla maglia. Ma perché sono abituati a uno stile di gioco troppo influenzato da queste chiamate. Cioè quando hanno però fatto quell'ottavo posto hanno capito. I nostri, cioè su certe situazioni soffrono troppo. Questa maggiormente. Cioè se appena pigliano un fallo e non riescono a mantenere il contatto. E appunto richiedono i tiri liberi quando non glieli danno. Hanno detto iniziamo a cambiare sta cosa. Diventano più fisici. Sapranno giocare meglio anche a livello internazionale. Oltre che a migliorare se stessi. Comunque Trae Young se la mette le mani avanti. Perché ovviamente se no potrebbe essere multato. E dice non voglio essere multato ma è frustrante. Ci sono molte chiamate sbagliate. E basket sembra che stiano ancora imparando ma è frustrante. Perché anche lui ha avuto alcuni problemi sulle chiamate. Poi cita tra l'altro altri giocatori. Guardate le partite. Lillard non viaggia a 17 punti di media dal suo primo anno da rookie. Ci sono un paio di giocatori. Per esempio Booker che ha 18 punti di media. In alcune azioni ci sono ragazzi che penetrano dritti a canestro. E vengono spinti perdendo l'equilibrio. Quello è ancora un fallo. Sia che usino le mani sia che usino il corpo. Dopo qua secondo me è un po' esagerato. Soprattutto nell'ultima frase. Al momento dove ha fatto questa dichiarazione. Booker viaggiava a 21 di media. E poi si è chiarito. Che appunto si è sbagliato. Però è vero che Lillard è sottotono. Quello sicuramente. E può essere anche sicuramente per i falli. Perché Lillard è un giocatore che vive anche molto in lunetta. Cioè non è da... È visibile. E anche qua si è sfogato. E anche qua si è sfogato. Sì vabbè ci sta. Ci può stare. È normale. Poi è un po' di parte. È un po' esagerato. Un pochino sì. Però io capisco il suo punto di vista. Cioè sono d'accordo che gli arbitri stiano ancora imparando. E che alcune cose preferiscono non fischiarle. Piuttosto che fischiarle per non ricadere. Perché poi dicono. Ah con questa nuova regola fischiano ancora questo. Cioè piuttosto fanno... Con questa nuova regola non fischiano più queste. Cioè piuttosto stanno nell'altra parte. Capito? Tra questi giocatori c'è Curry che invece va a controtendenza. A metà a controtendenza. A metà. Cioè rispetto agli altri due anche lui è sicuramente un indiziato. Ecco rispetto agli altri due è un po' sì. Ammettiamo la metà. Però comunque... Si è un po' lamentato dei fischi non chiamati su di lui. Mi ricordo che l'ha fatto. Si è un po' lamentato però poi... Cioè diciamo che si sta adattando ecco. Ha preso il momento di adattamento e dice... Ovviamente è molto meglio da vedere. Intendendo le partite ovviamente. Mi piaceva quando andavano a mio favore. Ovviamente i falli come dice Filo. E' divertente come nella prima partita di Precision a Porta. Non ho cercato di guadagnare un fallo ma poi ti adatti e ti liberi dell'impulso. Quindi quello di cercare fallo. E cerchi di trovare nuove soluzioni offensive. Ho guardato diverse partite. Per la maggior parte ho visto che 9 su 10 chiamate che andavano a favore dell'attacco. Ora non vanno così. E per ottime ragioni. Ci sono ancora alcuni contatti che sono in un'area grigia. Ma diventeranno più consistenti con le chiamate ed è ottimo per il gioco. So che molti tifosi adoreranno le nuove regole. Anche i giocatori con mentalità difensiva. A proposito di mentalità difensiva faccio subito. Scusate. E c'è proprio... Tanto che risegna anche con i piedi. Guarda lui. Può segnare davvero come mi pare. Non ha senso. E' proprio Draymond Green che dice... E' divertente vedere che questa merda non viene più fischiata. Da difensore fantastico perché ti sentivi come se non potessi far nulla. Tutto andava a vantaggio dell'attaccante. Ricordo che già dai primi allenamenti in cui è stata applicata questa regola. Mi rendevo conto che fosse grandiosa. Adesso è tutto più onesto e non si può imbrogliare. Ecco la parentesi. Quando fanno gli allenamenti hanno gli arbitri delle squadre NBA. Quindi che fischiano col metro arbitrale da NBA. Quindi loro lo provano già in allenamento. Lo vedono già in allenamento. Ultimissima cosa. Cioè ha parlato anche Kyle. Ecco ha parlato anche Kyle. Anche lo streamer si è preso in causa con questa dichiarazione. Esatto. E il cambio di regolamento è la cosa migliore che ha fatto la Lega negli ultimi anni per il gioco. Guardate le partite è completamente diverso. E io qua vi volevo chiedere. Poi torniamo al discorso anche su meglio per il difensore. Meglio per l'attaccante e cose del genere. Non hanno tutti i torti sul fatto delle partite. Cioè sono anche un po' più corte devo essere sincero. L'ultima che ho visto è durata un po' di meno. E io sono abbastanza contento su questa cosa. Cioè rimanere non sulle tre ore e passa di partita ha vantaggio anche per chi la segue sicuramente. Per questo anche mi piace questa cosa del regolamento. Mettiamola così. Ma guardate se stai mettendo sul tempo e io non ci avevo proprio pensato. Ma oltre a quello crede sia anche godibile. Cioè va proprio più avanti. Cioè più avanti indietro avanti indietro piuttosto che fermarsi ogni volta perché c'è uno che si è aperto piuttosto che aver giocato sulle sue abilità. No sul fatto che i difensori cioè io da giocatore abbastanza più difensivo che altro mi piace vedere anche che tipo un Draymond Green possa sfruttare e possa esaltare la difesa. Ecco si esalta la difesa ecco quello a me piace. No cioè per concludere il discorso dei falli quindi domanda secca. A voi piace? Cioè siete favorevoli su questo aspetto? Sì decisamente. Sono favorevole ma non c'è perfezione da nessuno delle due parti secondo me in questo momento. Poi ci sono come dice Steph le anche le aree grigie che sono anche ancora da valutare. Ma quale ci sono in tutto? Ci sono in tutto. Sono favorevoli soprattutto per il fatto che l'abbiano messa piuttosto che discuterla per tempo. Esatto. Cioè hanno preso una posizione e la vogliono mantenere. Già quello passo avanti. No che per l'NBA questo è uno statement perché sta a dire ragazzi avete rotto i coglioni adesso si gioca del basket della pallacanestro vera. Più tecnico esatto. Della pallacanestro vera così che non facciamo più figure di merda e piangiamo quando andiamo a giocare con le squadre in Europa. La pacchia è finita adesso si attaccano al capitolo del regolamento dice Giulio. E come dice Crash adesso se hanno il dubbio non fischiano. Se hanno il dubbio non fischiano. Prima era solo il dubbio fischio. Adesso se hanno il dubbio non fischio. Ci sta. Tra l'altro un altro di questi è Doncic che non ho ancora avuto il piacere di vedere in questa stagione però voglio vedere quanto sta piangendo. Ecco non... Esatto. Dove è Mickey? Mickey ti chiamo ancora su Doncic. Ti chiamo ancora su Doncic ma per questa parte dei falli io direi che concludiamo un po' qua. Poi ovviamente vi ricordo che abbiamo fatto un post su Instagram se volete chiacchierarne ancora ci trovate là su Instagram a discuterne nei commenti. E ovviamente di di chat su Telegram. Quindi mi raccomando mi raccomando mi raccomando. Comunque per YouTube ciao Panchinari. Ciao Panchinari. Vi aspettiamo anche sugli altri social. Ciao Panchinari. Ciao Panchinari. Ciao Panchinari. Ciao Panchinari. Ciao Panchinari. Grazie a tutti.